Sì, noi rientriamo nella capitale ed ora apriamo una finestra sul tema del bullismo, un fenomeno che preoccupa sempre di più, soprattutto dopo gli ultimi casi avvenuti nella capitale. Dopo l'aggressione ad una quindicenne alla fermata di Castelverde, le baby bull sorprese a giocare con i comandi di un bus a Torbella Monaca, la baby gang di Ostia che sparava gommini sui passanti da un balcone per vedere le reazioni della gente e da ultimo il diciassettenne che ha sequestrato tre coetanei per rapinarli, a Roma e nel Lazio si può parlare di una vera e propria escalation di violenze tra minorenni. Una spirale che non risparmia nessuno e coinvolge i quartieri colpiti dal degrado, ma anche la cosiddetta Roma bene. Fondamentale nella lotta a questo fenomeno è il ruolo dei media, delle famiglie e della scuola. Abbiamo sentito a proposito il parere di Maria Rita Parzi, psicoterapeuta dell'età evolutiva, l'ha intervistata per noi Alessio Orlandi. Professoressa Parzi, nelle ultime settimane sono saliti alla ribalta della cronaca molti episodi di bullismo. È soltanto un problema amplificato dai media o esiste veramente questo fenomeno? Questo fenomeno è sempre esistito. Naturalmente l'amplificazione dei media purtroppo lo rende ancora più drammatico, più visibile. Io vorrei dire una cosa importante. Proprio i media hanno determinato, l'importanza e la sottolineatura di questi episodi di violenza, hanno determinato io proprio direi anche un effetto scia. Ho sentito una sua dichiarazione, se non sbaglio, che mi ha molto colpito, che dice il bullismo è la ricerca negli occhi della vittima della paura che il bullo ha dentro di sé. Certamente. Cioè le persone violente, poi di una violenza così gratuita. Pensi quanti ragazzini danneggiano altri ragazzini o ragazzina che si sentono estremamente fragili, li mettono all'angolo, li tormentano, li spaventano. Bene, quello è il ripetersi di un terrore che comunque una persona vuole mettere fuori di sé. Il persecutore, la guzzino è il risultato di una persecuzione già patita. Esistono dei segnali per capire che un ragazzo può trasformarsi in un possibile bullo? Esistono infiniti segnali. Esistono segnali che vanno sin dal primo momento, sin da quando cominci a frequentare l'asilo. Vedi subito un bambino che è aggressivo oppure che si trasforma da vittima degli altri in aggressore degli altri. Un bambino o una bambina. Ci sono segnali nelle famiglie. Non potremmo mai pensare di risolvere questo problema se non guardiamo all'ambiente familiare e sociale dove queste persone crescono. Tra l'altro il bullismo attraversa trasversalmente ogni classe sociale. Sono bulli, aggressivi, distruttivi, massacratori, persecutori, anche ragazzi e ragazze appartenenti a classi sociali dove veramente nulla manca. Spesso si parla di bullismo alla maschile, ma un fenomeno forse magari un po' sottovalutato è il bullismo in rosa. Rosa, la parola rosa le diamo. Il bullismo delle bad girls. Le bad girls sono delle ragazzine che rinunciando a una predisposizione al contenimento, all'amore, al continuare a dare vita alla vita, alla capacità empatica proprio di immedesimarsi che è tipica ed è un orientamento proprio del femminile, imitano modelli deteriori che sono forniti loro proprio dalla violenza, se mi permettete, che passa per il codice maschile. Come si può prevenire e contrastare questo fenomeno? Io penso che divulgare tutto quello che è formidabile e forte, che è pieno di passione, che è pieno di speranza, che porta la gente a muoversi nel senso positivo, alla rivoluzione del cuore, ottiene un formidabile effetto se viene pubblicizzato, sponsorizzato, spinto, sottolineato.